Ciao a tutti e benvenuti su Ticino Trek & Bike, il canale YouTube che vi accompagna a piedi in bicicletta alla scoperta della Valle del Ticino. Oggi siamo a Pavia per parlare della chiesa di San Teodoro, la cui storia ci riporta alla Pavia Longobarda. Qui infatti esisteva una chiesa dedicata a Sant'Agnese fin dall'VIII secolo d.C., chiesa che venne riedificata nelle forme attuali nel XII secolo e siccome furono traslate le spoglie di San Teodoro, fu a lui dedicata. All'interno della chiesa possiamo trovare degli affreschi che raffigurano la vita sia di San Teodoro che di Sant'Agnese, di questo parleremo dopo. Per ora diciamo che San Teodoro fu vescovo di Pavia nella seconda metà dell'VIII secolo e fu una figura molto amata dai pescatori e dai barcaioli che nei secoli passati abitavano in questa zona della città. L'edificio, in tardo stile romanico, presenta tre absidi decorate con archetti pensili e internamente si sviluppa su tre navate, con quella centrale larga il doppio delle laterali. La facciata a capanna è caratterizzata da bacini ceramici che troviamo anche in altre chiese del romanico pavese, come ad esempio nella Basilica di San Pietro in Celdoro. Durante i restauri operati agli inizi del Novecento sono stati tolti gli elementi aggiunti in epoca cinquecentesca e al posto del rosone è stata ripristinata l'antica trifora. La sagoma del rosone è ancora individuabile tra i mattoni della facciata. Se l'esterno è stato riportato alle sue forme originali, all'interno possiamo ancora ammirare gli interventi cinquecenteschi che ci hanno lasciato dei bellissimi affreschi. Andiamo a vederli. Sulla parete sinistra del transetto troviamo gli affreschi che illustrano la storia di San Teodoro. Il ciclo è composto da dodici riquadri accompagnati da didascalie. La vita del santo è riproposta in chiave un po' romanzata, dato che San Teodoro è raffigurato come difensore della città longobarda assediata da Carlo Magno. In realtà Teodoro visse quel periodo in esilio. All'inizio del ciclo vediamo un angelo che suggerisce a re desiderio di eleggere Teodoro vescovo. Di particolare interesse sono le scene in cui vengono raffigurati dei particolari della città. Altri affreschi che raffigurano la città di Pavia si trovano dietro il battistero e sono attribuiti a Bernardino Lanzani. Vi possiamo osservare l'antico ponte coperto sul Ticino. Tornando al transetto, sul lato opposto al ciclo di San Teodoro troviamo un ciclo di affreschi, sempre cinquecenteschi, dedicati a Sant'Agnese. Le spoglie di San Teodoro sono custodite nell'altare maggiore. Al di sotto, nella cripta, troviamo tracce di affreschi quattrocenteschi e parte delle decorazioni originarie. Sui pilastri della chiesa vediamo affreschi votivi del XIII secolo. Trecentesca è la statua di San Teodoro con in mano la città di Pavia. Degli scavi hanno riportato alla luce alcuni tratti del pavimento a mosaico della chiesa precedente dedicata a Sant'Agnese. E con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se vi piace seguirci alla scoperta della Barri del Ticino. Seguiteci anche su Facebook. Un cordiale saluto a tutti da Claudio di Ticino Trek & Bike.